Poi ha avuto un apprezzo, palla netta del primo, quell'altro il teatro gli ha preso nettamente la gamba. Cioè, ho capito prima, non è che se fai fare la palla lontana non è fallo. Ma come? Scusa, il primo prende la palla, il secondo me. Certo, se ha fatto la palla lontana uno in tre scivolate ti ammazza, è comunque fallo. Poi che tu c'hai la palla o meno, se era quello prende la palla, niente. Se era quello prende la palla, assolutamente non è fallo. Ma poi voglio dire... Nel momento in cui quello impia la palla, quello è fallo. Ah poi hanno preso praticamente insieme, perché un secondo dopo l'ha toccato. No, vabbè, prima ha preso la palla, però... No, ha preso la palla, però quello l'ha preso subito dopo, non è che ti dici... GOL! Ma che ha parato? Io oggi sono te. L'ho sentito! Ma ha fatto una palla assurda! GOL! Che pavera! Dai! Grande consigli! Grande consigli! GOL! 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 Dai, grazie! GOL! Un tiro di merda! Tre all'ora! Sì, sì! Ah beh, là! C'aveva due davanti! Mamma mia! Due davanti! C'è, come una papera! Meglio così! Sì! 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 Non ci credo! No! Beh, è fe... Incredibile! Che t'ho detto? Che t'ho detto? Che hai avuto di rimbattere il calcio d'angolo? È un calcio d'angolo! Ma era regolare? Niente niente! Ah! Eh! Devi vedere! Ah! Patrick! Che cazzo! Ah! Oddio! Mamma mia! Dai! 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 Ah! Cazzo! Oddio! Mamma mia! Dai! Dai! Cazzo! Ma è la sola! Che cazzo fai Patrick? Ma è stupido, si è levato Che cazzo mi hai detto? Che giocatore, che pippa Ma perché non tira mai, perché? Non tira mai, mai Oh cazzo vai Patrick, oh cazzo, basta Lallano Che cazzo, basta che pippa Per esempio, oh se tirasse, mamma mia Quando tira vedi che segna comunque se tira Esatto, se tira mai, l'anno scorso Ha iniziato a tirare, mi segnava tu Eh, ma non c'è boh Grazie 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 Grazie